non era un grave insulto mio padre che non mi poteva vedere mi chiamava aborto poi ho letto che la parola è usata dal naturalista plinio nel senso di albero non cresciuto quindi non era un grave insulto come io e mia madre abbiamo sempre creduto commento invece era un insulto perché l'intenzione di tuo padre era quella di offenderti